In collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda. Buonasera cari telespettatori e benvenuti a Forum Imprese. Stasera a Forum Imprese parliamo di mondo del lavoro al femminile. Lo facciamo in compagnia di Ilaria Cecchini. Buonasera. Buonasera, founder di Women at Business. Lo facciamo con Laura Basili, founder sempre di Women at Business. Allora chiedo a Ilaria Cecchini, come nasce l'avventura di Women at Business? Women at Business nasce da una telefonata di Laura che ho ricevuto nell'ottobre del 2019. Laura tornava da un periodo a Londra e mi dice sono tornata a Milano e ho un'idea. e dobbiamo vederci, ci siamo viste e quell'idea era Women at Business, è diventata poi quello che adesso vediamo essere Women at Business. nasce da un'esigenza personale, nasce dal fatto di avere deciso di tornare in Italia lei e di vedere che a 52 anni il lavoro in Italia per una donna non era esattamente, rientrare nel mondo del lavoro non era il più semplice possibile. abbiamo condiviso questa cosa e ci siamo accorti che era una necessità non solo nostra ma di tante altre donne, che c'era un proprio gap nel mercato. E quindi abbiamo detto va bene, proviamoci, pensiamo di creare opportunità professionali, cerchiamo di far circolare le competenze femminili. come? Utilizzando la tecnologia. Utilizzando quindi quello che internet mette a disposizione e abbiamo pensato di creare una piattaforma di incontri professionali che abbina le competenze delle donne alla ricerca di competenze delle aziende. Quindi abbiamo due database, un database di donne e un database di aziende, abbinate da un algoritmo di matching, che propone alle aziende le migliori competenze per i loro progetti. Beh, fantastico direi, avete avuto un'idea molto molto innovativa, molto importante. Ecco, ma, e questo lo chiedo a Laura Basili, per quanto riguarda le aziende, si crea un ostacolo sull'età della donna da assumere quindi? Ma, guardi, noi non chiediamo l'età alle nostre donne. Noi vogliamo e abbiamo costruito un algoritmo il più inclusivo possibile. Perciò noi chiediamo che cosa sai fare, quali sono le tue competenze, quali sono le lingue che conosci, da quanti anni non lavori e per quanti anni hai lavorato. E' ovvio che, banalmente, se si cerca una competenza che preveda un studio, un'università di 5 anni, un'esperienza di 10, verosimilmente si può arrivare a individuare l'età più o meno della candidata, diciamo. Però vogliamo proprio essere inclusive e quindi di fatto quello che noi forniamo, quello che l'algoritmo propone alle aziende sono profili che hanno le competenze richieste. E poi l'età si scopre facendo il colloquio, le interviste e andando avanti con il rapporto tra donna e azienda. Perché poi in realtà, nella mia esperienza di consulente del lavoro, io vedo che l'età in realtà non è un ostacolo vero e proprio, perché poi ci sono anche aziende che invece, cercando le competenze, ovviamente le vanno a trovare solo nelle persone più mature. E poi il discorso dell'età non riguarda né le donne né gli uomini, ma in realtà se deve essere un ostacolo lo è per entrambi, insomma, diciamo. Ecco, e quindi poi avete avuto questa bellissima idea di Women at Business e come avete sviluppato la vostra idea? Quali sono stati i passi successivi? Allora, la nostra idea, abbiamo cercato un partner che ci aiutasse da un punto di vista tecnologico a sviluppare questa idea e a creare l'algoritmo. L'algoritmo è nostro proprietario, quindi abbiamo individuato quelle che erano le necessità da un punto di vista di piattaforma, di sito internet da creare. Perché Women at Business esiste online, ci si trova su womenatbusiness.com, si decide sono una donna, sono un'azienda e si segue quello che è il percorso per iscriversi. Perché si iscrivono sia le donne che le aziende. E quindi a quel punto poi abbiamo pensato di creare un'interfaccia il più semplice possibile, perché la donna potesse raccontarci quelle che sono le sue competenze, potesse raccontarci quello che è il suo percorso professionale e darci tutte quelle indicazioni di flessibilità, tempo, luogo. Perché un tema, se si vuole superare un po' lo scoglio, secondo noi, è quello di iniziare a, diciamo, parlare di flessibilità. Parlare di flessibilità in termini di quante ore vuoi lavorare, quindi hai disponibilità tutto il giorno, ti chiede il nostro form, vuoi lavorare part time, vuoi lavorare smart working, vuoi lavorare ibrido magari, vuoi lavorare in viaggio. Quindi nel momento in cui l'azienda si trova la candidata, sa già quali siano le necessità di questa candidata. Ed è anche un po' un cambio di punto di vista delle aziende. Ecco, chiedo allora a Laura Basili, quali sono le competenze che una donna, cioè quali sono gli skills che una donna apporta al mondo del lavoro, se vogliamo, in maniera differente rispetto agli uomini? Io credo che sia un punto di vista diverso, una prospettiva diversa, banalmente. Ed è proprio questo cambio di prospettiva, l'insieme delle diverse prospettive che danno un arricchimento alla società e quindi anche al mondo del lavoro. Quindi noi stiamo parlando di offrire un'opportunità in più alle donne, perché in questo momento sono le donne che sono state, diciamo, espulse dal mondo del lavoro. Un po' per natura, perché la necessità di conciliare vita professionale e familiare ovviamente ricade sulle donne, ma anche perché la pandemia ha creato veramente un'espulsione di genere dal mondo del lavoro. Ma siamo assolutamente convinte che è la diversità che crea arricchimento. Quindi il mondo del lavoro deve essere fatto da uomini e donne e di conseguenza avere diverse prospettive, diversi modi di guardare al problema e diversi modi di risolverlo. Quindi voi vedete un'espulsione a causa della pandemia? L'avete vista sul mercato? Guardi, queste erano parole di De Bortoli, non sono parole mie, ma sì, in realtà sì, i numeri dicono questo. L'anno scorso più di 312 mila donne hanno perso il lavoro a fine dicembre del 2020. E quindi il nostro obiettivo è quello di riportarle, di riportarle in qualche modo al mondo del lavoro, e quello che aveva anticipato Ilaria prima è proprio questo, magari creando un nuovo paradigma nel mondo del lavoro. Perché se le donne non riescono a conciliare le esigenze familiari e professionali, probabilmente bisogna parlare di nuovo paradigma, di provare a introdurre una flessibilità, una nuova progettualità. E magari è un modo per Vincente, per poter fare lavorare tutti. Eppure noi consulenti del lavoro in questi anni abbiamo lavorato molto ai cosiddetti accordi sindacali interni per la conciliazione vita-lavoro. E tra i vari strumenti abbiamo proprio visto il part-time in molte forme, il telelavoro, ma anche lo smart working. Quindi in realtà questi accordi ci sono, le aziende di volta in volta hanno anche ricevuto dei benefici, cioè degli sgravi contributivi in virtù di questi accordi. Quindi in realtà gli strumenti, la normativa li dà, però probabilmente abbiamo vissuto un periodo molto particolare. Se non sbaglio voi vi siete ispirate anche ad Agenda 2030, c'è un punto particolare che vi ha ispirato? C'è uno degli SDG, uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, che è il numero 5, che è quello della parità di genere, assolutamente sì. Che è quello di creare tutti gli strumenti possibili per far sì che anche le donne abbiano lo stesso accesso al mondo del lavoro che hanno gli uomini, quindi le famose pari opportunità. E per questo noi ci riteniamo uno strumento di sostenibilità sociale delle competenze femminili. Perché sostenibilità sociale? Si parla sempre di sostenibilità green, quindi del verde, di questo pianeta. Però c'è anche un tema sociale molto importante. C'è un tema sociale che coinvolge metà del pianeta, metà dell'Italia in particolare, che sono le donne. E sostenibilità perché? Perché se investiamo sulle donne di adesso, quelle che non lavorano adesso, ma che daranno un esempio a casa se hanno un lavoro, sono delle mamme più contente, sono delle mogli, compagne, figlie, cugine, con una prospettiva, con una loro dimensione professionale, con una loro indipendenza, con una loro indipendenza economica. Questo fa sì che la donna diventi soggetto attivo nella propria vita, fa sì che diventi soggetto attivo nella società, arricchisce la società, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista sociale. Ed è libera. Assolutamente, perché la donna che non ha l'indipendenza economica diventa la schiava del marito. Esatto, non è libera. Non è libera, assolutamente, è una roba terribile. Ecco, ma voi avete attirato l'attenzione anche di un giornale molto importante che è Forbes. Ecco, Laura Basili mi vuole raccontare un po' come è accaduto. Sì, è accaduto che siamo state candidate da Forbes tra le 100 donne vincenti del 2021. È stata una sorpresa incredibile, straordinaria e nel numero di luglio di Forbes è uscito l'elenco e eravamo veramente onorate di essere tra queste donne incredibili. Ed è stato bellissimo perché poi ad ottobre c'è stata la Women's Week di Forbes con veramente tantissime opportunità di incontro, tantissime opportunità di fare networking e tantissimi eventi molto interessanti per vedere proprio le professionalità delle donne da più punti di vista perché le donne hanno competenze e ce le hanno davvero in tutti i campi. E poi ovviamente l'ultima serata è stata celebrativa della festa, diciamo, delle 100 donne di quest'anno ed è stato un momento ancora una volta di aggregazione e di opportunità di incontro. E questo nonostante che la vostra start-up poi alla fine sia nata molto di recente, parliamo del 2019, corretto? No, in realtà noi siamo nate a febbraio 2020, in particolare il 14 febbraio, una settimana prima del lockdown. Abbiamo fondato la società, dopodiché abbiamo iniziato lo sviluppo tecnologico, la parte tecnologica del sito. Quindi siamo realmente operative da un anno commercialmente, diciamo, siamo sul mercato da un anno. Insomma, quindi una rapidissima ascesa. Ecco, adesso diamo spazio alla pubblicità, tra poco. Cari telespettatori, siamo in compagnia delle founder di Women at Business, Ilaria Cecchini e Laura Basili. Ecco, Laura Basili, le chiedo, voi avete fatto un manifesto recentemente che si chiama Let to Get Hair, giusto? Ecco, di che cosa si tratta esattamente? Allora, è il nostro manifesto di sostenibilità sociale delle competenze femminili, si chiama Together to Get Her. Cosa significa? Together vuol dire insieme, insieme alle istituzioni, insieme alle aziende, per To Get Her, per prendere lei, ogni singola donna, e riportarla nel mondo del lavoro. È ovviamente una sostenibilità sociale, un progetto di sostenibilità sociale delle competenze femminili. Che cosa vuol dire? Come diceva prima Ilaria, si parla sempre di sostenibilità, ma in termini ambientali. In questo caso è sociale, perché le donne che lavorano, le donne della nostra generazione, hanno bisogno di lavorare e noi rispondiamo a un'esigenza delle donne di questa generazione, affinché le donne e gli uomini delle generazioni future si trovino in una società più equa. È ingiusto creare un pianeta più green e non lasciare in eredità un pianeta più equo alle generazioni future. E ovviamente la tecnologia aiuta in questo, perché la tecnologia è una tecnologia amica e pone ovviamente l'esigenza dell'uomo, in questo caso della donna, al centro. E quindi la tecnologia vuole aiutare e supportare questa esigenza delle donne della nostra generazione. Ecco, chi sono le donne ambassador di Women at Business? Le donne ambassador di Women at Business sono delle donne che ci aiutano a raccontare il nostro progetto alle aziende. Women at Business funziona su tutta l'Italia. E quindi abbiamo bisogno di donne inserite nel territorio, nelle loro regioni in particolare, che raccontino alle aziende chi siamo, quali sono i nostri obiettivi e perché dovrebbero supportare la nostra missione per aiutarci appunto a fare circolare le competenze femminili. Quindi sono donne come noi che hanno deciso di appassionarsi, che si sono appassionate alla nostra missione e ci aiutano quotidianamente confrontandosi con le realtà aziendali del loro territorio. Ci sono anche colleghe consulenti del lavoro tra le vostre consulenti del lavoro? No, non ancora. Non ancora, dobbiamo rimediare. Assolutamente sì, lo faremo al più presto. Ecco, ci sono differenze tra aziende grandi e aziende piccole nel momento in cui si rivolgono a voi e cercano le competenze femminili di cui hanno bisogno? Ma sì, diciamo che le aziende che si rivolgono a noi sono molto eterogenee tra loro, quindi noi abbiamo aziende piccole, studi professionali, start up, aziende molto grandi. Noi siamo uno strumento concreto per trovare le competenze femminili e questo è diciamo il nostro algoritmo e viene utilizzato da tutti. Quello che invece le grandi aziende fanno in più è veicolare i nostri valori e la nostra missione, quindi utilizzano quello che è il manifesto, together, piuttosto che proprio il fatto stesso di essere entrati a far parte in una community come Women & Business per veicolare e aiutarci nel risolvere il problema della sostenibilità sociale e delle competenze femminili. In realtà poi la competenza specifica viene richiesta dalle grandi e piccole. In questo momento abbiamo tantissime competenze, tantissime ricerche aperte, le competenze vanno dall'ingegnere meccanico per arrivare all'addetto recupero crediti, piuttosto che la commercialista, quindi la farmacista, quindi diciamo sono trasversali le competenze. Bene, ottimo. E una donna che volesse rivolgersi a voi ed usufruire della vostra piattaforma, al vostro algoritmo, che cosa deve fare? Deve iscriversi www.womenatbusiness.com, selezionare il tasto donna e seguire passo passo tutte quelle che sono le istruzioni, i campi da completare. Si compila chiaramente con nome e cognome, l'email, dopodiché si entra nella parte di profilazione, dove si compilano le competenze, per cui si sceglie il settore in cui si vuole raccontare le proprie competenze, si sceglie la competenza, dopodiché se ne possono aggiungere infinite, quindi quante ne vuole la donna, può dire, di fare la brand manager e tutti quelli che sono anche i suoi hobby, che magari in un momento della sua vita possono anche diventare dei lavori, perché no? Dopodiché racconta quelle che sono state le sue esperienze professionali, risponde a un paio di domande, è molto rapido, è molto rapido, semplice e a quel punto salva il profilo ed entra a far parte del nostro database. Ed è gratuito. Ecco, colgo l'occasione per comunicare ai nostri telespettatori che qualora volessero rivedere i video di questa trasmissione possono andare sul sito www.centurionperol.com Ecco, questa avventura che si chiama Women at Business è nata in virtù di un'esperienza personale? Beh, nasce da un'esigenza personale, sì, dal desiderio di voler avere un progetto per sé, per me, per noi e ci siamo rese conto che tante donne, era un'esigenza davvero condivisa e abbiamo guardato i numeri del mercato prima della pandemia, quindi i numeri delle donne che non riuscivano a conciliare lavoro e famiglia nel 2019, 2018, 2017 e sono davvero tanti, quindi l'idea di avere un progetto e di provare a cimentarsi e avere il coraggio di buttarsi nuovamente nel mondo del lavoro è un progetto secondo me molto stimolante e è un'esigenza condivisa. Io non avevo, diciamo, questa idea che molte donne fossero fuoriuscite dal mercato a causa della pandemia perché nell'ambito delle aziende che io gestisco sinceramente ho visto che con gli strumenti, per esempio, lo smart working, anzi, hanno risolto parecchio anche nella gestione della famiglia, quindi nella conciliazione anche dei tempi, lavoro, casa e quindi non ho avuto questo eco, anche perché sui licenziamenti comunque siamo rimasti bloccati per tanto tempo, probabilmente ci sono state delle fuoriuscite volontarie. Assolutamente sì, delle dimissioni sui carichi di lavoro, date dai carichi di lavoro molto spesso, perché immaginiamo cosa possa essere stata la gestione del tempo di una donna con la dad famosa che ha abitato le nostre vite per gli ultimi due anni. Questo sì, senza altro. E che cosa possa essere stato il carico di una donna con dei genitori anziani, con una badante che non poteva più andarli a trovare, non si possono di certo abbandonare. Questo carico di cura è sempre sulle spalle delle donne e questo si è sentito molto, sono probabilmente state, come ha detto lei, una fuoriuscita, è stata una fuoriuscita, però i numeri comunque dicono che le donne hanno patito molto durante questo periodo di pandemia. Anche lo smart working ha caricato ulteriormente, perché è vero, ti permette di mantenere il lavoro, ma nel frattempo dietro quella porta o dietro quella parete, contemporaneamente ci può essere una vita che devi comunque gestire tu, che quindi pesa sulle tue spalle. Assolutamente, io ho avuto tanti incontri online con le aziende e c'erano dei bambini che giravano sempre intorno, cercando di distrarre la mamma, ma anche il papà a volte, in tante occasioni. Ecco, progetti per il futuro di Women at Business? Beh, il futuro è pieno di progetti, sicuramente ci sarà una fase 2, una fase 3, in cui la tecnologia verrà implementata e ci saranno più funzionalità, più servizi per le aziende e per le donne. Quello che sicuramente vorremmo continuare, vogliamo continuare a fornire, sono appunto corsi di formazione e la possibilità per le donne di continuare a formarsi e aggiornarsi. Abbiamo capito che veramente non bisogna mai smettere di studiare e proprio per acquisire nuove competenze, nuovi punti di vista, perché il mondo sta cambiando veramente alla velocità della luce e noi dobbiamo stare al passo dei tempi, coi tempi. E non c'è dubbio. E le aziende che si vogliono rivolgere a Women at Business, cosa devono fare? Andare sempre sul sito womenatbusiness.com, selezionare la parte azienda e si abbonano le aziende, sostengono quindi per 12 mesi il nostro progetto, per cui c'è una fee, una tantum, a seconda della dimensione dell'azienda e poi chiaramente con le aziende più grandi invece creiamo dei progetti ad hoc, quindi ci si siede attorno a un tavolo e capiamo quali siano le esigenze, anche in termini di diversity and inclusion, di corporate social responsibility, di employer branding, perché alcuni dei nostri clienti, come diceva giustamente Laura, l'upskilling e il reskilling delle competenze che già esistono, quindi delle donne che già stanno lavorando, che sono uscite da poco dal mondo del lavoro, sono molto importanti e tante aziende lo erogano, ci aiutano, ci propongono alle donne della nostra community corsi, academy interne e questo è importantissimo, è uno stimolo straordinario, anche questa è un'opportunità, anche questo è un progetto professionale. Non c'è dubbio, sì sì, in effetti la formazione ormai per rimanere sul mercato deve essere continua. Ecco, ma possiamo utilizzare la donna che si rivolge a Women at Business? No, perché non possiamo più, perché ne abbiamo veramente tante, sono veramente eterogenee anche qui, abbiamo le laureande, le neolaureate, che sono in cerca del primo impiego, abbiamo avuto due endorsement molto belli nelle università, nella Sapienza, quindi nella facoltà di ingegneria e quella di economia, perciò le ragazze giovani che hanno poi il digitale nelle loro corde sono entrate e si sono iscritte. E poi abbiamo le donne che lavorano e che magari si stanno rendendo conto, stanno prendendo consapevolezza che non sono soddisfatte del ruolo che hanno, del lavoro che stanno svolgendo e che è il momento di cambiare. Quando ci sono grandi cambiamenti, poi anche i piccoli cambiamenti hanno un grande peso, no? E poi abbiamo le donne che erano il nostro target primario, che sono a bordo campo e che hanno voglia di rimettersi in gioco. Quindi l'età varia da 22-25 anni per arrivare a donne di 50-55 che hanno ancora un'energia incredibile, hanno voglia di essere, sentirsi di nuovo attive e indipendenti. E quindi è difficile fare l'identikit della donna di Women in Business, molto difficile. Secondo voi c'è ancora un po' di, come dire, di pregiudizio nei confronti delle donne o è più un'idea che ci facciamo noi ormai? Allora, secondo noi sta cambiando. Quello che noi viviamo in questo momento è che c'è molta attenzione al tema del lavoro femminile e c'è grandissimo sforzo verso un cambiamento. Si cercano e si cercano di intraprendere più strade possibili. Quindi si vedono tanti esperimenti, si vedono tanti tentativi e ci sono tante aziende lungimiranti che hanno voglia di supportare questi tentativi e questi progetti. Bene, sono molto contenta. Allora, con questa, diciamo, visione molto ottimista, ma che io condivido del mondo del lavoro al femminile, salutiamo tutti i telespettatori e ringrazio molto per il loro contributo. le ospite di Women at Business. Grazie mille. Grazie, buonasera, arrivederci. In collaborazione con Centurion Payroll Service, il payroll outsourcing al servizio della tua azienda.